Il Valzer delle candidature in Umbria. Cominciamo dal centrodestra che viene dato per favorito. Fratelli d'Italia punta su Zaffini e Prisco, considerati intoccabili, e quindi anche su Marco Squarta e De Leonora Pace, con la possibilità che si inserisca nel discorso anche Fotini e Giustozzi. La Lega punta tutto su Alessandrini a Terni e Caparvi nel Perugino, mentre toccherà la Camera di Terni, il collegio, a Nevi per forza Italia, mentre Fiammetta a Modena spererà nei resti del proporzionale, sempre alla Camera. Al centro-sinistra il PD ha sicuramente in mente di candidare Anna Ascani alla Camera nel proporzionale dove il posto è certo, mentre nel proporzionale del Senato potrebbe finire Sauro Cristofani, indicato dalla segreteria regionale, anche se c'è sempre la ombra nazionale di Walter Verini nei collegi. Tre sindaci, Bettin al Senato, ma potrebbe essere sostituito da Chiodini, qualora fosse considerato non elegibile, in quanto non si è dimesso da sindaco entro il 28 luglio. e poi ancora altri due sindaci che sono presciutti per il collegio della Camera di Perugia e, infine, ultima ipotesi, derebotti per il collegio della Camera di Terni. Va infine segnalato che l'Istituto Cattaneo ha di nuovo proposto la sua cartina sui collegi e sulle possibilità che gli schieramenti attuali hanno, in base ai numeri finora espressi di eleggere. È una cartina che è un de profundis, in verità, per il PD. Neanche dalla Toscana e dalla Emilia Romagna vengono buone notizie. L'unica soddisfazione per il centro-sinistra Umbro è che i tre collegi Umbri, due alla Camera e uno al Senato, non hanno il colore dell'azzurro più intenso, ma quello subito sotto nella scala dei colori. Non proprio, quindi, tre collegi blindati a favore del centro-destra, e però quasi e senza distinzione fra i tre.